ciao a tutti i ragazzi e bentornati in questo nuovo video questo è un video che è uscito subito dopo che sto facendo subito dopo aver finito di registrare l'enorme maratona perché ho fatto una maratona sono riuscito vi faccio vedere il pazzesco praticamente ho finito la stagione qua c'è questo che sparava i razzetti una delusione assurda faccio l'occasino e basta ho rotto la campana ma quanto pare no va bene comunque ho completato questo monumento li ho presi tutti abbiamo perso un pezzo di armatura purtroppo comunque cos'è successo ho registrato questo episodio è stato diciamo abbastanza epico perché sono quasi morto due volte abbiamo fatto esplodere mezza mappa però mi sono praticamente accorto adesso alla fine che non ha registrato niente cioè non avevo fatto partire la registrazione e quindi purtroppo è andato verso tutto ci piaceva una campana qua perché non c'è altro da fare e possiamo fare una cosa cercare di farci uccidere dallo slime ci metteremo qua ci muore prima lo slimo ci moriamo prima noi ci moriamo prima noi evidentemente perché tanto già siamo morti mi hanno lasciato tutto la serie finisce qua di dispiace e basta che è successo è successo ragazzi ha resettato tutto che è successo sono sponato in un altro villaggio ma perché ma che cavolo come vedete comunque qua è saltato tutto i cannoni non hanno funzionato come dovevano è saltato tutto non capisco per vabbè niente è patente commentate iscrivetevi iscrivetevi state in casa e divertiteli ciao